tifosi e tifose viola un saluto dal mio nuovo salotto aspetta ve lo mostro cammino però fiorentina spezia 1 a 1 e pasqua pasqua rovinata ragazzi pasqua rovinata però la maglia viola si porta sempre scusate per l'occhiare da solo ma ho avuto una notta taccia perché purtroppo ieri è venuto mancare un amico e collaboratore in live che faceva live con soprattutto con gli amici da iale nick di contropressing e asso di roma ha fatto del live anche con noi qui quando eravamo su porter square sapere della sua scomparsa veramente mi ha rattristato molto è stata veramente una nottata difficile visto che qua in canada ancora mattina e vorrei dedicare questo video a lui quindi pasqua rovinata più che altro per la scomparsa di luca casarino allenatore del curitiba o del curiciba come si direbbe appunto in brasile quindi vorrei dedicare la live il video a lui e mandagli un abbraccio e e di riposare in pace perché è stato veramente una grande persona un ragazzo di un'umiltà incredibile e e dai grandissimi valori quando ci raccontava come crescevano e come toglievano i bambini dalla povertà quando li portavano nelle scuole calcio tutto veramente un bravo un bravissimo ragazzo una grandissima persona mando le condoglianze a tutta la sua famiglia e suoi amici è veramente un corpo al cuore ragazzi però oggi c'è stata la partita non è andata bene speravo almeno la fiorentina potesse migliorarmi questo weekend invece stasera vado a cena da degli amici eh vicino a toronto genoani e almeno se si vinceva con lo spezia visto loro da liguri da da genoani sono contro lo spezia almeno almeno si sarebbe potuto ridere di qualcosa invece stasera immagino che mi prenderanno per per il culo anche perché abbiamo pareggiato con lo spezia quindi e mi toccherà assorbirmi anche quello un weekend pasquale diciamo dove la fiorentina non mi soddisfa in realtà secondo me la fiorentina non ha nemmeno giocato male nel secondo tempo meglio perché nel primo tempo non si è fatto un tiro in porta se non la grandissima azione del capitano stile stile appunto no che ho detto allo stile il cafù che però poi è un autogol però aveva fatto un grande recupero una grande azione mh però poi poco in altro e grande azione dello spezia sul loro gol spezia ci aveva messo in difficoltà eh in in diverse occasioni spezia è la squadra secondo me che ci ha messo più in difficoltà di inter e cremonese e altre squadre nei nei giorni scorsi una un pareggio ci può stare però perché dopo tantissime vittorie eh ho visto una squadra comunque stanca una squadra che ha che ha dovuto eh comunque aveva il fiatone per le tante partite giocate avevamo giocato anche mercoledì in Coppa Italia lo spezia ripeto non ha un avversario facile ha battuto anche l'Inter ha fatto sudare tantissimi avversari quindi ci poteva stare e mh un 1 a 1 che scoccia perché poi nel secondo tempo hai preso un palo con Brecola e hai fatto tante azioni però siamo stati anche fortunati perché liscio muro dopo e alla fine si è mangiato un gol pazzesco bravo terracciano che oggi è stato bravo nel secondo tempo ma nel primo tempo sul gol di di Enzola un po' di colpa lui 50% lui e 50 Igor si sono fatti un po' uccellare dal lancio lungo di eh di Dragoschi che oggi ha fatto tante belle parate perché poi ha fatto anche una gran parata su sul nostro capitano su punizione nel secondo tempo grande punizione di Viraghi oggi Viraghi bene ma non malissimo nessuno un po' lenti un po' impacciati un po' un po' stanchi e ci può stare ragazzi mi riovvina un po' la Pasqua vorrei urlare come fanno tanti su YouTube che spaccano i piatti dicono cose però non è non è il mio stile anche se mi farebbe fare più visualizzazioni non me ne importa questo è un canale che ha riaperto da poco l'importante è parlare di Fiorentina l'importante è che la Fiorentina non abbia perso comunque perché alla fine con quel con quella rete di di Shomuro con quella rete con quell'azione di Shomuro dove la poteva benissimo passare al compagno a destra avrebbero potuto vincere avrei mi sarei avrei veramente rosicato quindi è andata così e speravo andasse meglio ma è andata male io ragazzi non sono nella in vena di fare tantissime battute e ci ci vediamo poi sul canale tra tra qualche settimana poi uscirà anche il nuovo format i fantastici tre che sarà fatto con Matteo Appendino e Nick di Contro Pressing avrete più dettagli a breve io vi mando un grandissimo bacione un saluto a tutti tifosi viola e tifosi viola e non e ci vediamo alla prossima un altro grandissimo saluto all'amico Luca Casarino perché riposi in pace ragazzi un caro saluto e sempre Forza Viola